ciao a tutti come state speriamo bene allora oggi siamo con voi con un altro video questa volta su calendario dell'avvento vediamo di quale calendario dell'avvento si parla eccolo qua Douglas guardatelo in tutto il suo splendore così e vi vi dico che questo calendario qui me l'ha comprato mio marito per è stato un piccolissimo regalo che mi ha diciamo un aperitivo che mi ha regalato per il mio compleanno allora adesso guardiamolo insieme cosa ci sarà all'interno slacciamo guardiamo qui no adesso già lo sto già sto facendo danni allora allora adesso litigo con la scatola ce l'abbiamo fatta allora vi guardiamo un po qui ecco lo apriamo il calendario si apre così adesso ti copro azzurra proviamo cerchiamo la prima casella adesso in impresa allora la prima casella trovata è qui trovate qui ma che bello emozionante aprire i calendari dell'avvento guardiamo cosa sarà mai è una cosa che secondo me mi piace tanto guardiamo ecco qua ecco qua ed ecco a voi la prima cos'è un matt kiss sarebbe una tinta labbra sì sì è una tinta labbra guardate è una tinta labbra è un matt guardate matt kiss c'è scritto matt kiss beh comunque ci piace ora adesso siamo abbiamo iniziato bene raga vediamo la seconda dov'è la seconda la seconda la seconda la seconda la apri azzurra si azzurra dai trova la seconda ma io voglio apri azzurra di vedere la seconda la quattro qua c'è la c 4 12 2 eccola qui trovata qui adesso mi scassa tutto il calendario dell'avvento aiuta ragazzi come si apre aspetta che finito io è arrivata la fenomena qua allora allora intelligentoni che siamo ecco qua vai io ho fatto la strada vai ecco cos'è cos'è cosa sarà mai enjoy the power of the sea bergamers ah c'è a che fare sarà un bagno schiuma ditemi per favore se ve lo sapete cosa può essere la crema ditemelo nei commenti per favore che io non me ne intendo tanto è la prima volta che prendo questo calendario quindi non so cosa sarebbe uscire cioè non ho visto neanche spacchettamenti in rete quindi non su youtube non ho visto niente quindi proprio per non rovinarmi la sorpresa però se veramente non so cosa cioè che cosa possa essere vediamo cioè me dà l'idea di un bagno schiuma bagno d'orza e per me secondo me è un giallo per passare bagno d'orza secondo me è un bagno d'orza dai allora adesso io cerco la 3 però muoviamoci perché altrimenti qua si fa notte sì allora la 3 è qui guardate e cerchiamo di aprirla allora qui perché c'è l'aiuto io le sfondo proprio le caselle ecco cosa sarà mai uh è un guanto struccante immagino credo immagino sia un guanto struccante cioè perché mica escono i guanti per la neve no è un guanto struccante carino guarda che fai così o per lo scrub o per quelle cose oh guarda 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 ho preso i miei tigello si secondo me è questo vabbè ti strucchi se ti vuoi allora adesso azzurra apre la 4 la 4 eh valla a cercare adesso l'hai trovata l'hai trovata? qui qui l'hai trovata? no non è qui ehm aspetta ragazzi devo trovare 4 no qua siamo già la 24 questa ecco trovata ok aspetta ecco scassa cosa c'è? cos'è? sarà un top coat due in uno coat ho detto top coat questo un top coat 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 si è tutto solo allora io cerco la 5 guardiamo dove sei 5 ti prego allora la 5 è qui trovata qui 5 e adesso guardiamo un attimo così ma è ma che c'è? no cosa è 24 ma non è a 5 perché c'è non c'è niente ragazzi ragazzi non c'è niente com'è possibile? no aspetta è uscita oh no è scappata via stiamo scassando tutto il beh comunque è una pinzetta guardate che carina con la scritta Douglas ah Douglas bella guardate ok mi piace mi piace tanto comunque raga siamo stati in grado di spaccare mezzo calendario solamente per la casella numero 5 allora già abbiamo sbirciato cosa ci possa essere nella 24 però shh non lo dite nessuno allora andiamo alla casella numero 6 ma vai a cercare la 6 io la devo cercare oh mio dio qui qui deve essere qui amore qui ma non c'è aspetta perché qui c'è la 7 è bene allora è bene amore sediti allora qui c'è la 9 qui c'è la 7 e qui c'è la 1 che abbiamo aperto la 3 l'abbiamo aperto per me sta pietro no secondo me secondo me no oh eccolo ragazzi brava e la 6 è qui quindi vedete ok posso vai apri ah aspetta apri ma quanto ci piace aprire i calendari tantissimo ma è possibile che dobbiamo smantellare a mezzo calendario dell'avvento no ci credo grazie mi esce tutto a farlo ma cos'è un bifasico no il tonico la lozione tonica guardate il tonico andate da viaggio sarà fa da viaggio ma che cosa serve? senti che cosa serve? questo è il tonico per la bella per la bella si questo è il più bello allora cerchiamo la 8 la 8 la 8 la 8 dove sei? aspetta c'è la 7 la 9 eeeh la 11 no no sta lì sta lì dove dove ma c'è dietro? questa è la 18 ma dietro no non c'è niente dietro aspetta io voglio la 8 questa è la 9 azzurra aiutami tu aiuto aspetta eccola l'ho trovata l'ho trovata raga è qui guardate è qui ma ciao numero 8 vediamo come si vede amore si ammettì io non mi vedevo scusate ragazzi wow non ci credo cos'è? non ci credo sarà una maschera? no cos'è? si è una maschera guardate face mask ci piace quindi poi la 9 che già ho visto da un sacco di tempo che adesso aprirà giù aspetta si aprirò io e sarà questa qui aspetta adesso la aprirò aspetta ragazzi aspetta ragazzi oh sto per rompere ragazzi non so come le fare oh ecco wow è uscita una maschera la maschera e maschere cioè da notte che piacciono azzurra azzurra per te uscire questa è per te aspettate dire però guardate come cioè pensi su a te non pensi a loro che stanno guardando pensi solo a te è rossa si guardate è rossa con le stelle penso eh cioè non è che le vedo io le stelle si le stelle wow si wow adesso adesso è pronto per andare a letto ciao allora adesso devo aperto la bolla si tantissimo allora raga cosa c'è? ci siamo dimenticati la numero 7 prima della 8 ci siamo dimenticati la numero 7 oh no oh mio dio non ci credo mi sto facendo vecchia ragazze se guardate dietro c'è scritto buon compleanno Katia 33 anni ci ha compiuto 33 anni l'altro ieri 18 mi sto facendo vecchia ho dimenticato la numero 7 guardate ancora qui è ancora qui sveglia qui intatta vabbè dai adesso mi faccio perdonare dai allora l'apriamo apri oh mamma mia è entrata dentro la oh mio dio e poi qui abbiamo cos'è? una diciamo è un come per struccare per struccare si oppure per fare così no no per struccare guardate morbidissima guarda hai profumo anche? si si vero profumo tutto guardate così piccolina perché perché io già le ho viste da Douglas così le vendevano in confezione da tre rosa rossa e azzurra mi sembra non lo sai già comunque o bianca non mi ricordo comunque comunque è uscita una di queste qua in versione natalizia ovvio si guardate bella bella ci piace adesso andiamo al numero allora ho già fatto la 7 la 6 la 7 la 8 la 9 adesso la 10 la 10 e la 10 sarà mia ma si però dov'è la 10 aspetta prima l'ho vista stai ferma stai ferma? che stai ferma? no eccola chi ce l'ha visto? oh l'hai trovata azzurra l'ha trovata la 10 che è qui è vero qui raga guardate guardate raga adesso la apriamo subito la apriamo subito ma subito eh subito adesso la apri lei subito vai aiuto mi hanno nascosto cosa c'è? oddio vedo uno smalto mi sa che è mio ragazzi ma mi sa che azzurra se mi va perché guardate raga ma cos'è? uno smalto che colore c'è rosa 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 tenue chiaro con i brillantini all'interno che bello lucicoso beh da qui non riuscirete a vedere niente però io vi assicuro raga che è molto rilucicoso comunque ci piace guardiamo guardiamo adesso vi ho aperto la cartella 10 la cartella la cartella scusate e io già sono già sono alla tombola in pratica perché a natale si gioca alla tombola mi piace tanto comunque l'undici l'undici mi sembra che aspetta aspetta non l'ho vista non l'ho vista è qui 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 trovate l'undici l'undici dov'è? qui qui ok apriamo adesso apri spero che non sia una cosa bella altrimenti me la non voglio ragazzi cioè scusa ragazzi se è una cosa bella te la rubi? si e se è brutta? se è brutta te la devi rubi ok va bene eh ma guarda che l'ha vinta questa eh poi abbiamo questi sono per le dita quando ti devi mettere lo smalto dai me le dai in macchina? te le regalo ma cosa dobbiamo fare? metti il dito così aspetta adesso li mettiamo così eh così e metti lo smalto ma? così per non sfruttare mi sa che questo calendario dell'avvento è per azzurro ahahah ahahah allora abbiamo aperto ok aspetta che eccola qui l'ho trovata subito la cartella la cartella la cartella la cartella 12 ok aspetta 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 che quasi sto facendo tutto non siamo ubriache però dai vai ok sei un po' allegretta però eh vabbè ma mi fanno anche ragazzi non lo so allora ragazzi ti aiuto amore sì è vero perché non so come cosa uscirà oh cosa uscirà wow vedi e questa è mia no questa è mia no 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 questo è mia no tu che metti le tinte no 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 questo è mia aspetta fammi vedere no 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 questo è mia vediamo se è un'altra tinta no questa non è una tinta mi sa che è tua no non lo so devo vedere raga adesso la apro e vediamo non voglio è mia però è mio vero ragazzi che è mia vero ragazzi che è mia vediamo secondo me è un lip è un rossetto è un rossetto lipido vediamo se si asciuga se si asciuga se si asciuga è una tinta comunque il colore è molto bello rispecchia anche quello con il suo adesso molto carino no non lo so non lo so no no allora abbiamo aperto la casella 12 adesso apri adesso apri tu la 13 dobbiamo trovare la 13 però 13 aspetta l'hai visto? si si aspetta dove? ma non l'ho vista qua no qui c'è il 21 il 18 aspetta no secondo me è qui aspetta l'ho trovata l'ho trovata eccola l'hai trovata? ah ok vai aprila ok la apro ragazzi ma che cosa ragazzi? ah questi sono i ce n'è uno si che cosa ragazzi? queste mollicine tipo cornetta tipo filo della cornetta di una volta anche c'è filo della del citofono guarda e per i capelli questo vuoi te la ragazzi ok? va bene adesso io cerco la 14 adesso andiamo più veloce perchè qua secondo me se no ci addormentiamo eh allora la 14 è qui apriamo la 14 va a capire come si apre ah ok qui ah ma ragazzi bravassi no ci credo questa è un butt modifizer questa qua si mette in vasca quando fai il bagno guardate 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 ah non è chiusa raga anche se chiusa si sente il profumo guarda così ci mettiamo i bagni e la mamma Harmony of Arveda boh speriamo si pronuncia così così ci mettiamo i bagni e la mamma così ci mettiamo i bagni e la mamma e la mamma adesso cerchiamo la 15 la 15 che è la 15 la 15 mi ha adesso amore cerchiamo la 15 che qua mi sembra una caccia al tesoro ma quale 15 la 15 la 15 la 15 è qui ah ok adesso la apro ok aspetta ragazzi aspetta 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 devo stare attenta che la comillata me la da eh ragazzi come si apre? non so aprire cioè le vuole aprire lei ma poi alla fine non sa come si apre cioè non so aprire il cavolo di questa cosa allora mi sa che li faccio solo io eh dai i calendari dell'avvento no 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 tutti i calendari di questo modo li apro da sola no 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 e abbiamo qui un'altra maschera raga purificante vedate questo è mia come avrei fatto senza così via la mamma ci facciamo la maschera e per adesso abbiamo due maschere sì così una purificante e l'altra radiante sì una per me così ok allora qui c'è la sedici raga adesso l'apriamo che l'apri tu o l'apri? no apro apro io e mi sa che è bello grande nooo c'è vero c'è una cosa bella che me la regali cos'ha? 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 è uno specchietto ma che specchietto? da borsetta tanto non mi piace non mi piace ragazzi no è un dolcetto sì buonanotte è uno specchietto da borsetta buonanotte anche se io se fossi stata Douglas avrei messo una custodia per questo specchietto qui lei ti dice no no non mi piace poi dopo non lo trovo più chi l'ha presa? azzurro vero? allora adesso cerchiamo il 17 adesso sta per me 17 queste qui lo apro io no ma dove sta a stare qui? aspetta ragazzi qui ah qui mamma qui allora sta facendo un casino mamma mia ma perché mamma mia è l'apertura più pratica del mondo un calentare dell'avvento un calentare dell'avvento guardate questo che colore che bello è bellissimo io amo questi smalti guardate è bellissimo è il numero che dice numero 285 guardate che bello bellissimo poi adesso cerchiamo il 18 18 18 18 18 da prima ho visto anch'io l'ho visto no l'ho visto qua l'ho visto qua eccolo ho trovato è qui 18 eccolo qui 18 è qui mamma mia che il casino mamma mia che stiamo facendo un casino un paziente raga sto avendo una pazienza io prima di stare su youtube facevo prendevo i calendari dell'avvento facevo così strappavo lo strappavo tutto e vedevo le sorprese questo è un buffer piccolino piccolino in edizione natalizia rosso guardate cosa serve? sembra una gomma da cancellare è una roma no non è una roma ok allora adesso il 19 qui ti tocca a me questo qui è mio allora mo lo unghie l'apro e mo lo so che io sto facendo perchè le mie unghie sono così corte perchè non le posso aprire io te lo apro io no vedi che ce l'ho fatto vedi vedi che ce l'ho fatta vedi che ce l'ho fatta e tu dici sempre io 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 stai smantellando c'è raga che voglio far vedere guardate qua ho smantellato mezzo calendario dell'avvento solamente per la casella 19 cioè voglio far capire scusa ma va bene non fa niente guardiamo è uscito questo questo cos'è? è un è una crema per le mani hand cream quindi via e leilani bliss vediamo sentiamo il profumo aspetta quale sentiamo? senti buonissimo raga davvero buono ragazzi allora adesso la 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 è molto carina nera guardatela se non è bella lei ciao allora adesso allora 21 qui azzurra 21 è qui dai che siamo gli sboccioli 21 si ma non spartellare tutto il 21 è questa 21 si 21 è uscita una matita è una matita con il pencil cioè quindi per le liner perché per l'interno mi ricordo che si chiama casual nera vediamo come scrive wow però comunque no guarda perché ti devo sporcare le mani mi sono sporcata già io guarda qua con combina e comunque è bella adesso 21 aperta 22 dove sei? 22 dai che siamo gli sboccioli sboccioli dov'è 22 eccolo con tutto questo casino tutto quello quello questo è 23 con tutto questo casino che ho combinato no no questo quello è qui raga raga tutto guarda con tutto questo casino che ho combinato non mi ha fatto capire bene guarda che si diventa una cosa più bella la noia cosa è? no io amo adoro le sorprese anche io è semplicemente un barattolino cioè come come volete chiamarlo per metterci qualcosa dentro c'è c'è anche c'è un contenitore da viaggio ma potete mettere la crema sì un contenitore per mettere le tue creme preferite qualsiasi cosa sì io posso mettere questa me la mi vado sì ed è così sempre in versione natalizia Douglas vai metti da qua Douglas adesso comunque e abbiamo aperto anche la casella 22 ragazzi siamo agli sgoccioli 23 e adesso apriamo 23 la mia la 23 dov'è la 23 l'ho vista dov'è dove sei 23 23 eccolo dove 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 aspetta 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 dai non fare no no eccola l'ho trovata dai dai apri però ti devi mettere le lunghe finito così no li apro io capito questo lo apro io aspetta ti faccio vedere qui guarda devi schiacciare qui è una spugnetta per il trucco amore quindi per il trucco sembra uno schiaccio e adesso raga apriamo l'ultima casella numero 24 e cosa sarà mai abbiamo trovato mascara wow vediamo se non è vediamo eccolo mascara io ho un botto di mascara da finire raga e visto che l'ho aperto per farvelo vedere e dovrò finire subito anche questo comunque raga spero no aspetta c'è un altro no non ce ne sono più fino a 24 amore fai vedere abbiamo per tutte le casella fai vedere non è infinito non è infinito amore il guardate tutto sciarmato tutto quello che qua fa ha fatto un casino azzurro guarda vedete vedete ehi c'è tutto aperto azzurro vabbè azzurro va in paranoia allora raga il video finisce qua speriamo di avervi tenuto compagnia se vi è piaciuto lasciate un like se non siete iscritte iscrivetevi al canale ci farete molto piacere e se vi fa piacere attivate la campanella così sarete sempre aggiornati sui nostri video e noi raga ci vediamo alla prossima ciao ciao